I Serni ha riservato un'accoglienza davvero calorosa a Don Luigi Merola. Già parroco di Forcella, ha lottato e continua a lottare contro la camorra. Mette ogni giorno a rischio la sua vita per evitare che tanti giovani scelgano la strada più semplice, quella della malavita e dei soldi facili, sebbene spesso il prezzo da pagare sia altissimo. O si finisce in carcere o al cimitero. È il messaggio che si legge tra le righe del suo libro, Storie di ragazzi tra legalità e camorra. Dal libro emerge un dato drammatico che quasi il 37% dei ragazzi sono affascinati da modelli sbagliati. E noi il compito di chiesa, di educatori, di insegnanti è quello di trattenerli dentro alle nostre istituzioni, dentro alla chiesa, dentro alle scuole. E dunque è anche un grido allo Stato di trovare più risorse affinché questi ragazzi siano lantani da questi falsi modelli. Dall'altra parte però nel libro facciamo capire che dalla camorra si esce o morti o in carcere, non c'è altra vita. E dunque il bello è anche quello di affascinare i ragazzi e oggi qui ai Cerni abbiamo cercato di svegliarli. Il suo impegno nel sociale, l'idea fissa di togliere i ragazzi dalla strada, la sua battaglia contro la criminalità organizzata, stanno creando seri problemi e preoccupazioni a Don Luigi Merola. Nonostante le minacce di morte da parte della camorra infatti, di recente è stato lasciato senza scorta. La paura è umana, ho paura per la mia incolumità anche un po' per i ragazzi dove io spesso il mio tempo è dedicato a loro. Lo Stato non so quale strategie pensa di adottare. Mi auguro che al di là dello Stato il mio Signore mi protegga negli anni di vita che il Signore mi darà. Però nello stesso tempo fiducia perché lo Stato possa davvero valutare se è opportuno o non opportuno questo mio girare senza più una certa protezione. Aspettiamo. Forza le danno a questi ragazzi. A forza di continuare.